Tutti i modi di utilizzare Taopech a partire dal nastro più comodo, quello che consigliamo per i primi giorni di applicazione. Prendiamo un pezzo di nastro cerotto di questa lunghezza, questo è molto comodo perché è progettato per essere strappato con le mani. Dopodiché applichiamo il dispositivo con la scritta rivolta all'esterno e lo andiamo ad applicare sulla cute. Per la rimozione è sufficiente afferrare un angolino, trascinare molto lentamente e poi separare il dispositivo che conserveremo per altri usi e buttare il nastro cerotto. Questo è sicuramente il nastro più versatile che abbiamo perché non ha bisogno di nessun accessorio se non le mani. Si sceglie la dimensione con le dita ed è già pretagliato perché si liberi da solo. Ha una discreta traspirazione ed è ideale per lo sport, per l'acqua, quindi per la piscina, per tutti gli usi. E' per quello che lo consigliamo come uso iniziale. E' un nastro che tiene bene, che ha una buona colla e soprattutto nei primi periodi rende difficile perdere anche il dispositivo. Di contro a che appunto avendo una buona colla non è particolarmente delicato sulla pelle o sui vestiti e portarlo per molti giorni consecutivi lascia del leggero residuo di colla. Quindi lo consigliamo proprio per le fasi iniziali. In caso di pelli delicate vi mostriamo un'altra cosa. Per le pelli più delicati invece consigliamo un nastro in TNT anallergico. In questo caso ha un rocchetto dosatore, quindi è meno comodo dell'altro ma si presta a questo tipo di usi. E' sufficiente scegliere la quantità di nastro desiderata e poi c'è la sua apposita ghigliottina per tagliarlo. Utilizzeremo sempre il dispositivo con la scritta verso l'esterno e la parte scura verso il corpo e utilizzeremo il nostro nastro in TNT anallergico sul punto desiderato. Per la rimozione sollevo sempre un angolino e poi delicatamente lo vado a rimuovere. Può essere utile anche inumidirlo con dell'acqua prima della rimozione. Stesso meccanismo, otterrò il dispositivo per i prossimi usi, dura tre anni, ed elimino il nastro cerotto. La nanotecnologia ha bisogno di essere strettamente a contatto con il corpo ma questo non vuol dire che per forza deve essere adesa al corpo con il nastro cerotto. Infatti un altro uso in caso di pelli delicate è usare il dispositivo attaccato ai vestiti e non alla pelle. In questo caso cosa farò? Invece che utilizzare il dispositivo con la scritta verso l'esterno lo ruoto così leggermente quindi metterò la parte scura verso il nastro cerotto perché adesso cosa farò nell'applicazione? Lo girerò quindi ho la parte attiva verso la cute e la andrò ad applicare sotto al top in questo caso. Ecco che sarò a contatto con la colonna vertebrale. Sto svolgendo la mia azione terapeutica ma senza aver messo nessuna colla a contatto con la cute senza inibire la traspirazione. Questa applicazione ci torna molto utile. Sapete benissimo ad esempio che il punto migliore di applicazione anteriore è il punto numero 3 che si trova in questa posizione. Quando c'è il seno quindi nelle donne non conviene scegliere questo punto perché la sudorazione lì sarà elevata ed è facile anche perdere il dispositivo oppure che ci sia un'elevata irritazione. In questo caso sceglieremo il punto numero 2 anteriore quindi in questa posizione che anche ha molta visibilità oppure possiamo andare proprio a questa altezza con questa tecnica che vi ho appena spiegato. Rovescio il dispositivo di 180 gradi, lo applico sul cerotto dalla parte scura, giro il dispositivo e l'applicazione sarà fatta all'interno del top. Voilà sto trattando vaso concezione o comunque i pca anteriori, sto facendo un trattamento posteriore senza fare nessun'azione con la colla sulla cute. Altra cosa molto importante, questa è un'applicazione molto semplice che potete fare in tranquillità e anche nel caso venisse dimenticato il dispositivo a contatto con i top e andasse in lavatrice non c'è nessun problema. La tecnologia resiste all'acqua, agli urti quindi veramente tranquillo. Sugli adulti e anche sui bambini questa è la miglior strategia di applicazione. Altra comunicazione importante, le maglie di un tessuto quanto grandi sono per un fotone? Non pensiamo che il top patch non possa lavorare sopra i tessuti, sicuramente un tessuto schermerà parte della terapia ma gran parte dei fotoni passeranno lo stesso, quindi un altro degli utilizzi della tecnologia è quella sui tessuti soprattutto per i bambini in cui il dispositivo può essere applicato sopra il body o sulle magliette senza nessun problema. In questo caso io se anche applicassi il dispositivo sopra un tessuto di questo tipo posso avere tranquillamente un ottimo effetto terapeutico perché i fotoni sono in grado di passare attraverso le immense maglie di questa trama.